Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Video riflessivo, video argomentato, video logico, quello che stiamo per andare a fare, è su una notizia uscita un paio di giorni fa, ma che sapete bene, io i video non li faccio a cazzo. Io cerco sempre di approfondire, cerco sempre di sentire più campane, di sentire le persone che comunque conosco a riguardo, e poi farmi la mia idea, perché se dovessimo commentare qui tutto quello che scrivono i giornali, andremmo ai matti. Allora, prima di tutto, iscrizione al canale, che dobbiamo crescere, dobbiamo arrivare a 12.200, dobbiamo far crescere la community. Iscrizione, iscrizione, iscrizione. Seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok, e il link lo trovate in descrizione. Allora, la notizia è quella che ormai avete già letto, rimbalza dal giornalista Fabio Santini, che in esclusiva alla trasmissione di calciomercato.it, che ha un podcast, ha parlato di nuovo degli arabi. Quindi, sapete tutti, facciamo un passo indietro, che il Milan, se non fosse esploso a quel casino della finanza, ha poi rivelatosi una bolla di sapone, come il sottoscritto aveva preannunciato, perché ha fatto il casino, la perquisizione, poi tutto è finito con il licenziamento di chi aveva fatto la segnalazione, da come ho capito, ma comunque non si è andati a dama come qualcun altro avrebbe voluto. Ma si è, diciamo, andati a dama in un altro senso, perché il Milan, da documenti ufficiali emersi dall'inchiesta, al di là dei purloni che scrivono sotto le chat, il Milan era in trattativa per passare ad un fondo arabo con le quote di minoranza, come aveva raccontato correttamente il collega Longoni, come avevo raccontato anche io a posteriori dopo verifiche. Il Milan sarebbe passato, con le quote di minoranza, pian piano poi con gli anni sarebbero diventate le quote di maggioranza, agli arabi, con un fondo vicino al fondo PIF, non il fondo PIF direttamente. E questo lo certifica un documento ufficiale, poi c'è un documento dell'indagine, che l'unico documento realmente venuto fuori da quell'indagine è che il Milan era in trattativa con il fondo arabo. Al di là delle smentite che volevano fare i scaroni, eccetera, quella è l'unica cosa tangibile e peritiera. Trattativa che credo ormai con l'indagine, l'avanzare dell'indagine, il rallentamento, la scadenza della data di closing, eccetera, è completamente tramontata. Però tornano a parlare di arabi, perché il Milan e l'Italia in generale è sempre tenuta d'occhio dagli arabi e prima o poi si andrà a dama anche sotto questo punto di vista. Anche la Roma, come ci raccontano gli esponenti romanisti, è vicina un po' a questa transizione americo-araba, quindi con il passaggio dagli americani Fredkin ha un fondo arabo, che ancora non è ben chiaro quale sia, ma il Milan, bene o male, gli sarebbe aspettato lo stesso computo. Adesso io vi racconto la notizia, poi vi dico a logica, secondo me, un po' qual è la vera situazione. Allora, Fabio Santini, calciomercato.it, nel programma Ti amo calciomercato, la vado a leggere testualmente e dichiara. Se viene Paolo Maldini vuole carta bianca su tutto, e questo lo confermiamo, perché conosciamo Paolo Maldini, che tra l'altro è il motivo per il quale è stato licenziato da Cardinale, è perché ha avuto carta bianca su tutto, ha preteso carta bianca su tutto, il mercato posto scudetto, innegabile, è stato fallimentare perché De Kettler non combaciava con Pioli. Dest un disastro, Luigi un disastro, Franks un disastro, poi possiamo discutere i soldi a disposizione, eccetera, è stato un disastro. E Maldini, che può sbagliare, ha richiesto carta bianca nel mercato successivo, e a Cardinale non stava bene perché Cardinale vorrebbe un gruppo di lavoro, come lo ha adesso con Ibra Moncata e Furlani, e non voleva un capo che comandasse un po' questo gruppo di lavoro. Poi uno può concordare o non concordare, non è questa la sede per giudicarlo, però questa è l'essenza di quello che è successo. Posso dire che Maldini, dice Fabio Santini, si sta muovendo in Arabia per trovare dei soci che rilevino il 52%, ovvero la quota di maggioranza di Gerry Cardinale, e prima o poi li troverà. Ecco, questa notizia di Maldini, quando raccontammo degli arabi al Milan, del fondo PIF, eccetera, che sapevamo quel filone lì, era già uscita. E io dissi, francamente, a questa notizia, non ci credo, non ci credo, perché infatti il Milan non stava lavorando sotto... Ma perché poi, pensandoci, questa cosa non può venire fuori, perché Maldini sta cercando delle persone disposte ad investire sulla maggioranza del Milan, non lavorava con le stesse che cercavano la minoranza, di conseguenza non aveva queste persone, quindi cosa deve venire fuori? O ce lo racconta Maldini, o non viene fuori nulla. Prima o poi li troverà. Il Milan, se arriveranno, se si strutturerà come società seria, credo che venderanno sia Leao che Teo Hernandez. Questa è una indiscrezione che è un po' passata in secondo piano, ma che è un po' quello che credo anche io. Cioè, l'avevo raccontato un po' già nelle richieste di Teo Hernandez per il rinnovo. Il Milan, se non trova degli spunti di rinnovo, ma anche se dovesse trovarli, secondo me ha offerte buone, non entrambi nello stesso anno, ma piano piano cercherà di cambiare pelle al Milan, di cambiare animo allo spogliatoio, quindi cercare un po' di rivoluzionare quello che è stato il Milan dello Scudetto, che ormai è chiaramente vetusto, è passato del tempo, e quindi andrà a sostituire pian piano i giocatori. Ma non è questo l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è questa trattativa dove Maldini starebbe cercando questi esponenti. Se, tempo addietro, non ci interessava approfondirla, ma perché c'era il filone della trattativa araba, oggi vi dico che così remota l'idea non è. Perché Maldini è una persona orgogliosa. Era una persona che è stata punta nell'animo in quel licenziamento. Perché Maldini era tornato al Milan dopo che Galliani non l'avreva voluto, si era pian piano guadagnato la fiducia dell'ambiente, aveva avuto la prima volta carta bianca nel mercato che poi è andato come è andato, però aveva vinto lo Scudetto comunque. Era parte di quella dirigenza, poi con l'aiuto di Massara, con l'aiuto di Gazzidis sicuramente, però era parte di quella dirigenza che ha vinto lo Scudetto. E vedersi cacciare così, senza poi fornire effettivamente una versione dei fatti, e si è visto poi quando Maldini fa l'intervista a Radio Serie A, che viene richiesta la censura dal Milan, da quello che racconta Alessandro Alciato, cioè non dal Milan, che viene qualcuno ha chiamato per censurare tutto il casino che era successo, e Maldini risponde perentoriamente. Insomma, non si sono lasciati in bei rapporti, questo è palese a tutti. Quindi, conoscendo un po' il Maldini, l'idea che Maldini voglia riprendersi il Milan, scippandolo a Cardinale, ma pagando ovviamente legalmente tutto, quindi tra mille virgolette scippandolo, è un'idea credibile. È un'idea credibile. Ora, io non so il Santini, Fabio Santini, dove recepisce queste informazioni, però non è un'idea così malsana, così stupida. Il discorso è che è un'idea che, secondo me, per realizzarla non ci vuole tutto il suo tempo, perché se è vero oggi, era vero anche ieri. E se in un anno tu non trovi questo socio che si prende la maggioranza, è un motivo c'è. Il motivo, secondo me, è che Maldini, in certi ambienti, è un grande calciatore, tutto quello che vuoi, ma in certi termini finanziari non ha queste grandi conoscenze per arrivare dove vuole arrivare. E quindi, secondo me, Maldini, se l'obiettivo che ha è quello di tornare con gli arabi, eccetera, deve affidarsi a qualcuno. Deve cercare qualcuno che lo avvicini alla persona giusta per fare quello che vuole fare. Perché, secondo me, arrivati al fatto che è nata la cosa a febbraio, gennaio, l'anno scorso, siamo ad oggi, ma ancora non si è acquagliato nulla, vuol dire che c'è un intoppo, che c'è un problema. Secondo problema principale è che, secondo me, cardinale, vende la minoranza, ma prima che fa lo stadio, non smamma da Milano. Chiaramente, perché il cardinale innanzitutto deve pagare, deve rientrare dal vendor Loan fatto con Elliot. Ma poi, quando vendere al Milan, dovrà guadagnarci. Come ci guadagna? Facendo lo stadio. Finché lo stadio non si sblocca, o finché lo stadio non tramonta totalmente, cioè che gli dicono, oh, lo stadio, non si può fare, cardinale non vende la maggioranza del Milan. Quindi, o Maldini, posto che sia vero quello che ci racconta Fabio Santini, rivede la sua idea, e cerca un socio che tratti le quote di minoranza del Milan, oppure, deve attendere. Perché poi, quello che volevano fare gli arabi, erano entrare con la minoranza, e pian piano prendersi la maggioranza, nel giro di un tot di anni. E a questo, cardinale, secondo me, era ben disposto. Arrivare direttamente a prendersi la maggioranza, o la strapaghi quanto pagheresti il Milan con lo stadio fatto, e il Milan dei passi per lo stadio l'ha fatti, ma oggi c'è di nuovo una frenata, e dovremmo poi approfondire con un video apposito la questione stadio, oppure, la situazione è sempre la medesima, dove cardinale non te lo vende il Milan, non ti vende le quote di maggioranza. Tra l'altro rimarrebbe con il 48%, ma non avrebbe quel guadagno, quel ritorno economico, che avrebbe vendendoti il Milan, con lo stadio già fatto, con la prima pietra dello stadio già posta. E poi non si tratta di farlo, si tratta di progetto concreto, iniziare i lavori dello stadio. E allora lì cambia tutto. Questa è, secondo me, la situazione. Ovvero, una notizia, quella di Fabio Santini, che secondo me trova conferme nel fatto che questa notizia già circola nell'ambiente da tempo, ipotizzo quali siano i problemi, che sono i due che vi ho citato, ovvero cardinale stadio e il fatto che ci sia troppo tempo per trovare questo socio, vuol dire che Maldini, secondo me, in quell'ambiente ha bisogno di una mano da qualcuno, ma è legittimo. Lui ha fatto il calciatore per tutta la vita, ha fatto il dirigente affiancato da altri al Milan. Non è che abbia tutte queste conoscenze in un ambiente così alto, così finanziario. Parliamo di economia vera. Vediamo, vediamo. Io vi dico che ultimamente Cardinale mi ha deluso, ma non perché non investe. Perché Cardinale investe. Però, cioè, i soldi li mette. Però ci sono sempre mille vincoli, mille paletti. Io vorrei un po' una società che punta a vincere e a recuperare quello che spende dal campo, dalle vittorie. Poi va bene. Allora, vendere il giocatore, vendere la stella, è legittimo. Basta che la squadra sia sempre competitiva. E poi vorrei qualcuno che mi rappresenti in Lega Serie A. Perché mi sento debole in Lega Serie A. Non sento più quel Milan di Galliani di una volta. Questo è quanto. Fatemi sapere voi che ne pensate. Seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 12.200. Aspetto i vostri commenti sotto il video. Sempre Forza Milan!